e bello a tutti ragazzi in questo nuovissimo video andremo a provare a giocare a Roblox scusate per questa musica deve essere proprio bello eh uuuuh è proprio abbastanza bello molto bello eh comunque vi invito a lasciare like, iscriversi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdersi nessun altro video allora oggi vi ho portato questo video per insomma condividere un po' l'esperienza ehm di... com'è che posso dire... insomma l'esperienza di provare a fare video ehm... con questa applicazione e qua ci sono i trampolini come vedete se volete un video di stumble ve lo porterò più avanti perchè purtroppo in questo telefono non si può installare quindi più avanti vi porterò un video di stumble ma su... stiamo il gas vero no... qua ora qui c'è un mini parkour un po' difficilino non troppo ah vabbè allora che mappa uscita oh scusa scusate che mappa uscita oh laser tracer molto bella molto bella ma... ma... ma perchè sono morta non ho capito molto bello molto bello si può spostare il time no? no... non penso oh basta... cioè se ti colpisce una volta non ti uccida mica eh questo è fermo ma sono fermi questi non muoiono ah... ma perchè io sono morto questi no? ah... usavano le hack sono brutti e cattivi là c'è laser tracer so se si vede non mi piace tanto questa modalità scrivetemi nei commenti se volete se vi piace se vi piace ve lo continuerò a portare ok... e se volete suggeritemi anche qualche giochetto o mappa su roblox e... niente eh... quel che posso portarvi vi posso eh... cioè anzi quel che posso portarvi sul canale porto perchè se magari ho dei giochi che... vediamo che mappa esce ok... telfon o magari ho dei giochi che non sono compatibili al mio telefono cioè welfon mmm... non potrò falli eh... si ma... what? oh cavolo ah... sono morto mmm... perchè mi ha fatto il doppio salto non capisco perchè abbiamo sta... si ho capito ah... mi hanno fatto inciampare nooo ha vinto un altro mmm... a me non mi piace tanto questa modalità ma se a voi vi piace ve la porto se volete se no potremmo anche cambiare mmm... forse ci saranno più avanti delle live di stumbleguys che ne dite spingo round va bene va bene niente male niente male eh... ok perfetto spingo round via ma non servono a niente ah... ci fanno scivolare mi fanno scivolare basta queste robe anzi mi fanno andare più veloce altro che assomiglia più che cioè no assomiglia molto a stumble però qua girano veloce come quelle di fall ma si è buggato allora intanto qua non era cioè non erano così distanti queste piattaforme mmm... eh vabbè ma quanto sono distanti perché mi fai spawnare così aia 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 allora vi volevo anche mmm... proverei a lasciarvi in descrizione l'account di due miei amici che vorrei che se avete mmm... se avete tempo oppure se magari se avete voglia non vi obbligo eh però ve li consiglio e di iscrivervi iscriversi al suo canale perché no perché vabbè insomma capito come tutti vorremmo tante iscrizioni allora continuiamo con ice com'è che si chiamava ice qualcosa vabbè non mi ricordo tanto bene sì ok mi ricordo che c'era anche un trick tipo qua uh uh aspetta 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 uh aia aah ho rotolato ma ho visto che si può salire in questa montagna e mi fai respawnare per favore allora ok da sette minuti che stiamo registrando ah ma non ti fa respawnare peccato dov'è ma è là la mappa è molto nuova eeeh non ho vinto io purtroppo perché sono morto intermission 4 3 2 1 ok vediamo no ok per sabotare il fall jungle roll si sono curioso di vedere com'è jungle roll come sarà oh che so come sarà e beh sul fango se va ugualmente penso e vabbè ma quello lì va molto più veloce sì ma quello lì vola è uguale sul fango de bro complimenti hai vinto ok io direi di io direi di lasciarci qui eeeh ci vedremo in un altro video e bella raga un altro video che un altro video e di